Prima con educazione, quello che devo dire l'ho detto in Senato, non partecipo al processo mediatico, la notizia che oggi non ho ancora ricevuto l'avviso di garanzia, come tutti i cittadini mi difendo nei tribunali dove peraltro le cose stanno andando come voi sapete bene. Dal punto di vista politico però c'è silenzio da Meloni, silenzio dalla Legna, e la Russia state diventando un imbarazzo per questo governo?